Piccoli e grandi fan, stiamo parlando della richiesta che Dici Davidex dalla provincia di Firenze ci fa Il ballo del che cos'è? E anche questa ci riporta indietro veramente di tanti tanti ricordi 342-523-9246 C'è Madonna, Rambuacona Sandra Milo, Giure Angiura Per noi Che siamo piccoli fan Whitney Houston, Spanno Ballet Pasqua e zucchero, senza caffè Ma noi Siamo molto di più Saremo famosi per voi Io con mio fratello stiamo quasi sempre in tre Ci inventiamo un ballo ma nessuno sa com'è Da Milano a Parigi Tutti ci offrono un cachet Senza mal di testa Noi balliamo che cos'è Io con mio fratello Siamo sempre in tre Non tanto per la tecnica ma il feeling che c'è in noi Da New York a Londra Tutti sballano perché Mentre ci muoviamo noi balliamo E che cos'è? C'è l'è mano Banti e poi c'è La Parisi Gocce per te Per noi Siamo piccoli fan Michael Jackson Mina e poi c'è Morandi dalla Comprerà se Ma noi Noi siamo molto di più Saremo famosi per voi Io con mio fratello stiamo quasi sempre in tre Ci inventiamo un ballo ma nessuno sa com'è Da Milano a Roma Tutti ci offrono un cachet Senza mal di testa Noi balliamo che cos'è Io con mio fratello Siamo sempre in tre Non tanto per la tecnica ma il feeling che c'è in noi Da New York a Londra Tutti sballano perché Mentre ci muoviamo Noi balliamo che cos'è Io con mio fratello Siamo quasi sempre in tre Ci inventiamo un ballo ma nessuno sa com'è Da Milano a Roma Tutti ci offrono un cachet Senza mal di testa Noi balliamo che cos'è Io con mio fratello Siamo sempre in tre Non tanto per la tecnica ma il feeling che c'è in noi Da New York a Londra Tutti sballano perché Meglio ci muoviamo Noi balliamo Il ballo del che cos'è con i piccoli e grandi fan 1987 Digi Davidex Della provincia di Firenze Mi racconta che l'ha sentita ieri sera L'ha colpito Insomma se voi ascoltate sempre Radio Animati Sentite migliaia di sigle Migliaia Migliaia E così potete Insomma Innamorarvi anche di altre sigle Che non conoscete O che avete un po' Cancellato Nella memoria E noi siamo qua Proprio apposta per questo 24 ore su 24 A riportarvi Questi ricordi A sbloccarvi Questi ricordi Al prossimo episodio Adesso